Tra i comuni cilentani anche Agropoli partecipa al bando Educare in Comune con il progetto Biblioteca Ufficina Creativa. Il bando è stato emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. L'avviso pubblico, come si legge sul sito del Dipartimento, mira a contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi in un momento in cui l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari sociali socio-economici. Le proposte progettuali promosse dai comuni devono valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti al fine di renderli individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità di appartenenza, promuovendo il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Sono triliarie tematiche oggetto di finanziamento, famiglia come risorsa, relazione e inclusione, cultura, arte e ambiente. I progetti ammessi a finanziamento avranno una durata di 12 mesi. La proposta di Agropoli ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi verso i luoghi di cultura, a partire dalla biblioteca comunale, attraverso laboratori e attività che spaziano dalla letteratura alle arti visive e performative fino alla musica. Si punta a coinvolgere gli adolescenti attraverso percorsi di arte digitale, musica, storytelling, autobiografico digitale, poesia e scrittura creativa. È prevista inoltre la realizzazione di un festival dedicato alla creatività dei giovani, in cui sarà dedicata una sezione ragazzi del settembre culturale. Quest'ultima è una manifestazione ormai nota per la città di Agropoli, che vanta diverse edizioni. Dunque, in un momento difficile in cui i luoghi dell'arte sono momentaneamente chiusi, il Comune punta sulla cultura oltre che sull'educazione, elementi indispensabili per il corretto sviluppo della vita sociale e cognitiva dei giovani, lanciando un messaggio di positività e speranza per un futuro migliore pronto ad accoglierli, attraverso azioni che restituiscono importanza e protagonismo agli attori locali della comunità educante.